Si è parlato delle relazioni difficili, di come riconoscerle, come difendersi nel primo dei tre appuntamenti informativi organizzati dall'associazione Adiform Ascolto Dialogo Formazione e dalla APS Il Nido. Presso il caffè della villa comunale di Isernia si è svolto un confronto aperto tra la cittadinanza e le presidenti delle due associazioni, rispettivamente la dottoressa Emilia Petrollini e la psicoterapeuta Maria Ottaviano. Un'iniziativa nata per restituire al territorio parte dell'esperienza maturata sul campo per dare una risposta, come sottolineato dalle organizzatrici, alle problematiche che riguardano il buon vivere e la civiltà. Dopo il primo incontro le prossime date in agenda sono quelle del 27 aprile e del 4 maggio, ma l'obiettivo è quello di raccogliere le istanze provenienti dai partecipanti e trasformare l'iniziativa in un appuntamento fisso. Si è partito da un tema con cui tutti prima o poi si trovano a confrontarsi, ovvero quello delle relazioni problematiche. Le relazioni problematiche si vedono già nel comportamento sociale perché sono elementi che disturbano, sono elementi che hanno devianze e quindi è facilissimo riconoscerli. Certo è più difficile poi contenere questi fenomeni soprattutto se sono collettivi, però qui entra in campo il ruolo delle istituzioni, il ruolo dei professionisti, il ruolo delle famiglie, il ruolo dello Stato. Fortunatamente però pur trattandosi di un fenomeno frequente i rapporti relazionali difficili rappresentano una minoranza rispetto a quelli non disfunzionali. È un ventaglio, un ventaglio infinito perché ogni essere umano entra in relazione con un altro nel momento in cui si crea la relazione sia pure per un minuto può scattare la difficoltà e può scattare anche la devianza come invece può scattare il positivo perché poi non vediamo tutto in termini di negatività, no? Ci sono quelle difficili però poi ci sono tante relazioni positive da cui non è necessario difendersi, forse se ne parla meno proprio perché si danno per acclarate ma sono le più e questo non lo dobbiamo mai dimenticare. Le relazioni tossiche possono verificarsi in qualsiasi ambito della sfera sociale ed affettiva. Le persone che normalmente vengono definite tossiche, cioè persone che apportano problemi e che tendono ad abbassare l'autostima delle persone che prendono di mira o con cui entra in relazione. Chiaramente noi possiamo avere una persona qualsiasi anche della famiglia, dell'ambiente di lavoro, cioè un marito, un figlio, un suocero, un capo ufficio, insomma chiunque può diventare per noi una persona tossica se tutti gli interventi che fa relazionandosi con noi sono interventi che tendono ad abbassare la nostra autostima, cioè tendono a farci sentire inferiori. Perché? Perché la persona tossica è la persona che ha bisogno di sentirsi sempre in una posizione up, in una posizione alta rispetto all'altro.